Come si presenta la domanda? Per entrare nell'applicazione, clicca sul pulsante Accedi a servizio in alto a destra dello schermo e digita le tue credenziali di accesso ottenute tramite la registrazione o tramite Speed, sistema pubblico di identità digitale. Al primo accesso a servizio ti viene chiesto di confermare o integrare i dati inseriti in fase di registrazione che saranno utilizzati per la domanda di iscrizione. Poi fai clic su Presenta una nuova domanda di iscrizione. Ti viene chiesto di scegliere in ordine di priorità le scuole o i centri di formazione professionale CFP cui indirizzare la domanda indicando il loro codice identificativo. La domanda viene inoltrata alla prima scuola CFP scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno invece coinvolte una dopo l'altra solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Se non conosci i codici delle scuole scelte, puoi cercarli su Scuola in chiaro dal sito www.miur.gov.it oppure puoi rivolgerti alle scuole stesse. Una volta inserito il codice della scuola scelta e accettate le condizioni per il trattamento dei dati personali, il sistema ti guiderà nella compilazione del modulo di iscrizione. L'accoglimento della domanda di iscrizione potrebbe essere subordinato al possesso di specifici requisiti di precedenza stabiliti dal Consiglio d'Istituto della scuola scelta e pubblicati all'inizio del modello di domanda e su Scuola in chiaro. Per questa ragione è opportuno fornire tutti i dati richiesti nel modulo online. Sul modulo di iscrizione sono indicati contatti della scuola messi a disposizione per rispondere alle richieste di chiarimenti sull'iscrizione o per il supporto alla compilazione delle domande online. La domanda può essere compilata in tempi diversi e quindi, se desideri fare una pausa, puoi salvare le informazioni inserite fino a quel momento senza inoltrare la domanda. Dopo aver completato la domanda, puoi visualizzarla e salvarla in formato PDF. Verificata la correttezza, puoi eseguire l'invio. Attenzione! La domanda, una volta inviata, può essere modificata solo contattando direttamente la prima scuola scelta che la restituirà alla famiglia per le correzioni, sempre che ciò avvenga entro la data di scadenza delle iscrizioni. Dopo l'invio della domanda, una schermata ti conferma che l'inoltro è avvenuto con successo. È una ricevuta che ti sarà inviata anche alle caselle di posta elettronica principale e secondaria che hai comunicato all'atto della registrazione. Sarà utile conservarla per i contatti successivi con la scuola. Ogni informazione sullo stato di lavorazione della domanda sino all'accettazione finale verrà inviata agli indirizzi e-mail indicati all'atto della registrazione. Ti ricordiamo che il servizio delle iscrizioni online è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica. Inviare la domanda per primi non dà priorità di accoglimento da parte della scuola. La procedura rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2020. La procedura rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2020.